La ferma! Dov'è mio fratello? Signor Delarue, glielo garantisco. Non è stato qualcuno di queste parti. Hai tempo fino a mezzogiorno per trovare l'uomo che ha fatto questo. Altrimenti mi porti due della tua gente. Sono innocente, vi pregorò! Riposi in pace, principessa. Penserò io a te adesso. Abbiamo bisogno di gente come voi per tenere testa a quell'assassino. Non siete soldati voi due. Da dove venite? Meriti rispetto. Sapete, abbiamo sperato, pregato, perché arrivasse qualcuno come voi a salvarci da questa sciagora. Ti ho sottovalutato, soldato. Lo scopriremo subito di che pasta sei fatto.